Il tema è l'occhio della macchina, la macchina digitalizzata, la macchina informatica. La domanda, lo sguardo di questa macchina, diverso da quello che è, come dire, lo sguardo dell'occhio umano, è qualcosa di nuovo. Alla lettura del tuo libro mi sembra che appunto il problema non sia soltanto un cambiamento dello sguardo, di un regime diverso di visibilità, di una diversa visione sul mondo, ma quello che cambia, proprio in forza di quello, è la macchina stessa, l'analogia stessa tra uomo e macchina, tutta da questa trasformazione che è prodotta da queste nuove tecnologie cambia anche il nostro modo di stare al mondo. Vorrei fare una provocazione. Sì. Perché la domanda di fondo è, va bene, questo nuovo spazio visivo, ma poi come ci si sta? E ora vorrei farti vedere questa pubblicità. C'è un problema. Pubblicità di Tim. Che è lo sponsor della serata. Sì. 5G. Voglio dire, facciamo difficoltà a capire il modo in cui siamo. Non a caso, quando si nasce da richiesta di giovani, dice aiutateci a capire il modo in cui viviamo. Professore, ci siamo. Lasciamo a lei. Ma tutta questa nuova tecnologia, perché appare così, ancora più incomprensibile, no? Grazie, professore. Perché veramente affidarsi a questa sembra appunto a fare un appello al sacro, no? Secolarizzato. Lì non a caso, immagini. Il miracolo, no? Cioè, gli ex-volvos. Sì, sì, sì. Cioè, si mescola un po' più. Allora, dico, cos'è un'ulteriore alienazione? Questo affidamento. Sì. Questo però alla fine, magari. Ok, sì, perché sono due temi molto pesanti. Allora, innanzitutto il problema che io mi sono posto non è quello della differenza tra lo sguardo della macchina e lo sguardo umano. Questo problema non si pone. Il problema è la differenza dei diversi sguardi della macchina che, per esempio, nella nostra storia ci sono stati. Cioè, non è la prima volta che affidiamo a delle macchine. Io ho usato la parola macchina, ma la parola migliore forse sarebbe stato dispositivi per vedere. In Cina, più di 2.000 anni fa, usavano delle bolle di vetro piene d'acqua per leggere meglio le cose scritte, disegnate in piccolo. Abbiamo inventato gli occhiali, le lenti, il telescopio, il microscopio, la macchina fotografica, la macchina cinematografica. dispositivi visivi molto diversi. La cosa su cui ho focalizzato la mia attenzione era se i dispositivi visivi di oggi, quelli digitali, erano così diversi da quelli del passato e se soprattutto erano stati prodotti e nello stesso tempo conducevano a una società diversa. Cioè, partendo dal presupposto, ogni società produce un modo di vedere e quel modo di vedere produce la visione del mondo di quella società, questo è il passaggio per me fondamentale, ogni società produce un modo di vedere, dei dispositivi visivi, con dispositivi non intendo soltanto le macchine, ma proprio delle modalità di vedere e quelle modalità di vedere diventano la visione del mondo di quella società, di quel momento storico. L'esempio per me più eclatante e più bello da studiare è quello della prospettiva rinascimentale, che è un dispositivo, è un dispositivo che tra l'altro è molto simile a quello dei computer, perché è matematico, è geometrico, è algoritmico. Se voi leggete la prospettiva Pingendi di Piero della Francesca, lui vi dice, dividete gli oggetti, il corpo umano in tanti punti, in tanti segmenti, lo fate geometricamente, usate le proporzioni, usate i sistemi di calcolo complessi per riprodurlo sulla tela. Cioè, sta parlando di computer graphic, fondamentalmente. Allora, il punto è, per esempio, la prospettiva. La prospettiva che cos'è? È un modo di dipingere? No, è un modo di pensare il mondo, è un modo di vedere il mondo. Come nasce la prospettiva? Dove nasce la prospettiva? Non sono io a dirlo, sono studiosi come Panoschi, soprattutto Gombrich, ce l'hanno spiegato molto bene. Chi è che si inventa un modo matematico di vedere il mondo? Una classe dominante, mercantile. Cioè, usciamo dal Medioevo in cui la nobiltà e l'Ecclesia definisce il potere ed emerge una nuova classe di potere, che è il mercante. Il mercante, che poi si trasforma nel borghese, cosa deve fare? Cosa deve saper fare? Contare. Quello è il suo problema. In termini di soldi, io devo saperli contare, devo saper contare quante tele sono arrivate, quanti tessuti, quante monete, quanto oro. E infatti il Rinascimento è il periodo in cui nascono le banche, la moneta contante che non ha più un riferimento sul peso dell'oro. Nascono i travel check, nascono gli istituti di credito, nascono le assicurazioni di viaggio, tutto basato su una piccola invenzione che fortunatamente qua a Torino, devo dire, riusciamo a celebrare nella sua vera apoteosi, e cioè i numeri indo-arabi portati da Fibonacci, lo dico perché sulla Mole Antonegliani abbiamo la famosa strida di Fibonacci, che alla fine del Medioevo decide di portare i numeri indo-arabi anche nell'uso comune in Italia. usare i numeri romani per fare calcoli ampli era impossibile, per un motivo, primo lo spazio che occupavano era troppo lungo, secondo non avevano lo zero, impossibile fare i decimali. Fibonacci non è che se lo inventa, il padre è un mercante di Pisa, va in Nord Africa per fare affari e si porta dietro il figlio, e questo capisce che gli arabi fanno meglio affari perché usano un sistema diverso di conteggio, lo prende, lo porta in Italia e poi in Europa. la prospettiva nasce all'interno di questa rivoluzione. Allora la prospettiva diventa un modo matematico di rappresentare il mondo e d'altro canto è la visione matematica del mondo. Questo io intendo per dispositivo. Pensate al cinema nel Novecento. Nel Novecento nasce il cinema, nasce tra l'altro come ancora una volta il legame col digitale è forte, come esperimenti scientifici. Il cinema è scientifico, nasce nella scienza, non è che nasce a Hollywood, Hollywood viene dopo, molto dopo. E cosa succede? È un dispositivo visivo che rappresenta perfettamente il mondo di fine Ottocento, inizio Novecento, il mondo meccanico, perché il mondo meccanico ha una visione di sé lineare, il cinema è lineare, è fatta in maniera analogica, risponde, ed è un meccanismo industriale, la macchina di Lumière era fatta sul modello delle macchine industriali, era la macchina da cucina della Singer, tanto per quello che abbiamo in casa anche noi, con tanto di pedaliera. La manovella viene dopo, all'inizio c'è la pedaliera, mi sembra di vedere mia nonna, quella roba lì. E chi è che va a vedere il cinema? Gli operai, la gente che va a vivere nelle grandi metropoli, Benjamin, Parigi capitale del centesimo secolo, le vetrine, quindi le vetrine, lo spettacolo, vedo una vetrina dietro l'altra, il cinema è vedere una vetrina dietro l'altra, un fotogramma dietro l'altro. Quindi noi nel Novecento costruiamo un dispositivo visivo che rappresenta in pieno quello che è la società del Novecento e nello stesso tempo quel dispositivo visivo poi riesce a celebrare la visione del mondo del Novecento, che è una visione analogica, lineare, industriale ed è quello. Allora la mia domanda è, ma il digitale, tutti dicono che è stata una rivoluzione, è stata una rivoluzione anche nel modo di vedere, cioè anche la visione con la macchina digitale cambia? Questo è il punto. L'idea è, se noi stiamo costruendo un dispositivo visivo diverso, stiamo anche proponendo una visione del mondo diverso e se noi riusciamo a captare questo dispositivo e la visione del mondo che ci ridà, siamo anche in grado di capire qual è la nostra visione del mondo. Quindi il mio lavoro è stato esattamente questo, da umanista quale io sono, sono studioso di cinema, di filosofia e via dicendo, ho cominciato a dialogare con gli ingegneri, gli informatici, gli sviluppatori, sono andato a parlare, io ormai partecipo più che altro ai conveni di ingegneri, sono sempre un pesce fordato ovunque vado, però è molto divertente, perché voglio capire quali sono i funzionamenti, quali sono le dinamiche, quali sono le logiche, perché a quel punto io posso descrivere un occhio diverso e se posso descrivere un occhio diverso posso iniziare, qui comincio a rispondere, iniziare a descrivere che visione del mondo noi abbiamo oggi.